Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a giocare la nostra prima random scarpe challenge che non potevamo assolutamente non fare con l'arrivo appunto delle scarpe su Fortnite e se questo video arriva a 5000 like, potevo chiederne anche di più ma non so manco così pochi andrò a comprare qualche modello delle scarpe uscite su Fortnite e magari anche di quelli che dovranno uscire nei prossimi giorni sempre nel negozio ditemi nei commenti anche quali devo andare a comprare prima di continuare col video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYTUTTOGRANDE è tutto attaccato nei codi soggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzi è davvero fondamentale per supportarmi quindi incontrate sempre su supporto a un creatore ci sia scritto GGYTUTTOGRANDE è tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo grazie proprio di cuore a chi lo farà è fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi video anche perché ormai siamo entrati nella settimana finale di questa stagione remix del capitolo 2 ci sarà l'evento finale poi ci sarà ovviamente anche l'arrivo del capitolo 6 quindi non vi perdete tutti i prossimi video e come vi stavo dicendo mi sono tenuto abbastanza semplice con le challenge quest'oggi per esempio con le squalofole che sono per adesso le uniche scarpe made by Fortnite praticamente perché le altre sono tutte Nike devo giocare la modalità più classica del gioco quindi la battaglia reale in singolo build invece per quanto riguarda le Air Jordan 4 retro di colore verde queste qui che tra l'altro sono stupende devo giocare la battaglia reale no build sempre in singolo mentre per quanto riguarda le Jordan 3 con queste devo giocare in build reload mentre invece con le Black Sement Grey devo giocare le no build in reload mentre con la Air Jordan 1 IG posso scegliere in quale modalità giocare ma devo giocare in solo versus duo quindi andiamo a togliere le scarpe mettiamola casuale e sono uscite attenzione l'Air Jordan 4 retro le manila ah sì oggi anche con una bella skin natalizia ecco loro ragazzi mi tocca giocare in battaglia reale zero costruzioni vediamo un po' che riusciamo a combinare va dall'altro abbiamo anche la coroncina ragazzi dove possiamo andare? ma sapete dove sto atterrando davvero poco invece era uno dei miei punti preferiti nel capitolo 2 a pantano palpitante vediamo un po' almeno ci scegliamo anche immediatamente tra l'altro fatemi sapere nei commenti cosa ne pensai di queste scarpe adesso che sono uscite da un po' di giorni la critica che si sta ovviamente facendo di più a questa uscita delle scarpe è il costo chiaramente effettivamente costicchiano io infatti spero in tante altre scarpe che usciranno in futuro made by Fortnite quindi senza loghi senza marca che magari possano costare un po' di meno e diciamo che ci sono alcune skin come per esempio anche quella che ho messo io oggi che hanno lo stivale e le scarpe gli sono messe tipo un po' sopra lo stivale che è un po' triggera come cosa però se non ci pensi troppo e non ci fai troppo caso diciamo e ci puoi passare sopra detto questo prendiamo le armi c'è un po' di gente che sta atterrando qui con noi io prendo queste robettine qui mi fullo immediatamente con erbarilone gigante e poi possiamo andare anche a pushare volendo ah sì comunque ragazzi in sti giorni sto giocando con le cuffie perché sì cioè senza un motivo ben preciso qui abbiamo un bro però mi sa che è sopra esatto però ma c'avevi cioè c'avevi poco shield poca vita poco tutto mi pushi con tutta sta aggressività non mi è sembrata proprio una mossa intelligente bro la corona appunto già ce l'ho quindi non ci interessa il pompa a carica ragazzi io non lo so usare non ho idea ciao bro ok tra l'altro l'abbiamo fatto sobbalzare con la porta ma mi sa che era un bot ma io sinceramente avevo sentito un bot di gente atterrare però non sto sentendo più nessuno tra l'altro sto trovando soltanto questi a cappa verdi va bene l'unica arma presente in questo gioco praticamente per quanto riguarda i fucili assalto attenzione passi finalmente un avversario dove sei bro cosa mi racconti cosa stai facendo più che altro ehi bro 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 sei sopra sei sopra non vorrei salire da quelle scale no mi sa che è sopra 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 aspettate ma dov'è ma dov'è il bro ok perfetto la deagle signori la deagle la deagle e questo aveva la deagle e questo fucile poi tutti con la corona ma che è successo o si era andato a prendere quello di quell'altro che avevo killato tra l'altro ma ha segnato altri passi eh non non abbassiamo la guardia ma ha segnato altri passettini ok c'è uno lì 60 sta riscappando 125 50 c'è un altro lì ma che è tiro al bersaglio no disciato questo mi sa che era un bot stavo facendo tipo tiro al bersaglio c'erano gli avversari che venivano io dovevo prenderli con la deagle da lontano mi piacerebbe trovare altri impulsi anche se mi sarebbe piaciuto anche tenere i cosi eh le ballerine le bombe ballerine però regà la deagle e la deagle comunque molto belle le scarpe allora diciamo che con alcune skin stanno al top cioè proprio son perfette altre skin tipo questa son belle ripeto se non ci fai troppo caso no l'ho lisciato ok perfetto dicevo con altre skin tipo questa che c'hanno gli stivaloni o comunque gli viene messa qualcosa sopra sì ti piace sono belle secondo me però come stavo dicendo prima non ci devi far troppo caso e poi ci sono alcune skin che o non gli stanno proprio bene cioè sono messe proprio male non capisco o altre quelle che c'hanno proprio la caviglia piccola 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 infatti succede più che altro con le skin femminili che hanno ovviamente una sagoma un po' più stretta diciamo in generale devo dire che le scarpe vengono fatte ancora più piccole con le caviglie ancora più piccole diventa un po' quasi sbagliata la proporzione cioè ti fa senso proprio solo a vedere la proporzione anche altre skin maschili grosse che poi magari hanno le gambette piccoline e hanno questo effetto comunque per adesso appunto ci sono più di 500 skin in totale che supportano il potere indossare le scarpe ma vi ricordo che entro mi sembra fine 2025 addirittura se non ricordo male entro primavera 2025 saranno quasi tutte a poter indossare le scarpe cioè quasi tutte vuol dire praticamente 2000 skin circa cioè se non di più addirittura non so quanto siano quante siano le skin in totale ah però signori e che armi avevano qui signorini scusate un attimo allora il taccone o lo eh no raga mi piglio lo spasso dai però certo il taccone leggendario in no build però c'ho questo raga c'ho questo quindi tiro la spassata e poi papapapapam con questo dai diciamo che ci può stare che bella hit comunque con la dico lo stavo dicendo no e stavo dicendo anche con le scarpe insomma saranno un botto le skin che potranno indossarle quindi insomma non vedo l'ora anche poi per poter fare altre random skin challenge con delle skin particolari e chissà poi se usciranno altre marche di scarpe tipo adidas new balance sarebbe alquanto particolare no raga ma il bunkadile era uno mannaggia la miseria me lo scordo sempre che ormai tutto in sta stagione è un macello con il loot mi sarei tenuto più volentieri la impulsi ve lo giuro ma chi ma pro no gli ho sparato anche alcuna pro vabbè mi ha dovevo giocare il bunkadile madonna raga mi ha bombato in mezzo secondo con il pump a carica non ho visto neanche di che rarità fosse mannaggia la miseria ma in due secondi c'era una bella partita in due secondi è finita così sono triste mi ha reso molto triste comunque che scarpe e ovviamente sono rimaste quelle perché chiaramente è tutto buggato per quanto riguarda la randomicità degli oggetti ma lo sappiamo quindi togliamo queste bellissime scarpe dai preferiti mettiamo il vuoto mettiamo le altre casuali attenzione gli squalotti quindi rimaniamo in battaglia reale ma mettiamo build e vediamo un po' che cosa succede non me ne voglia Nike scarpe bellissime fantastiche ma vogliamo mettere gli squalotti ai piedi e dai un po' dopo la delusione di prima dobbiamo rifarci adesso ragazzi io direi di andare a parco direi di andare a parco ci sto andando spesso in reload ma qui nella battaglia reale mi sa che ci sarò atterrato uno o due volte ovviamente quando è tornato adesso fortnite remix sia chiaro quanto so possenti ste ciabatte degli squali ragazzi madre mia e madre mia quanta gente ci sta avvenendo zio pera oddio no in realtà sembrava più gente saranno 4 o 5 mi sta mancando pantano ragazzi mi sta mancando moltissimo pantano non ho trovato neanche uno shield zero oh no oh no oh no bro oh no bro ma in realtà sto andando da questi ok a chi stava provando a sparare bro rimani coperto o ti scopri fammelo sapere perché in caso aspetto se no me ne vado mi sa che se n'è andato lui ok quindi lutiamo questo va ah si stanno bombando lì dentro ragazzi non so ah no no se n'è andato di qua ok mi stavo stavo per prendere una macchina per ah ma allora lì ma quanti siete ancora oman si è bombato nessuno siamo ancora tutti 4 e 5 ah quello si è ok e si gode ok nella botta gliel'abbiamo data si sono bombati lo stesso ce n'è uno là sopra eh però ce n'è anche uno a sinistra raga non è che mi vada troppo di ficcarmi in mezzo in questa situazione poco piacevole eh bro senti io a te però non t'ho fatto niente eh e non t'ho fatto eh vabbè bro a te si a te t'ho provato a lanciare cose ok se ci sta che ah e no però e no però e no io sto in mezzo a non lo so a tutti i cecchini una a sinistra una a destra e c'è il traierdino davanti se non si è spostato non c'ho movement la situazione non mi piace proprio per niente non mi piace ok vabbè ci ho provato e vabbè ma ma bro a saperlo che mi editavi me la tenevo la carica guarda oh a fra te pure tu da lontano però bravo spara a quello oh ma quello mi ha rotto ha veramente rotto ragazzi io il caccia non lo so usare ma questo sta arrivando qua qualcosa te lo dico io lo sapevo lo sapevo che sta arrivando qua guarda lo sapevo ma mi spiegate che cosa sta succedendo bro ho finito il mazzo ho finito i mazzo ragazzi diciamo che sono finiti anche i giochi dunque mi sa che alla fine eravamo un po' più dei 6-7 doppia quella macchina 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 vola come non hai mai volato prima d'ora macchinina raga mi sento male mi sento male ho visto una cosa e mi sto per sentire male ma che cos'è cos'è sta io mi ricordo che tipo un tempo se faceva sta cosa i benzinaio che facevi finta di essere benzinaio e metteva la roba anche ai nemici ma guardalo guardalo ma che cacchio ha fatto guardalo no bro no tanto non si può fare teaming cioè nel senso ah io lo so che i giochi vanno presi pure per semplicemente trollare e divertisse però il problema ma ragazzi è che questa roba da epic games viene vista come teaming cioè se io adesso a questo qui lo lasciavo perde o me prendevo semplicemente le cure e me ne andavo e poi magari quello lì è maledetto e mi segnalava e tranquillamente potevo essere effettivamente bannato per teaming ragazzi quindi raga ripeto è figo cioè quell'approccio al game sarebbe quello che tutti dovrebbero avere non quello tra i jardino ma semplicemente di divertimento se non ovviamente chi vuole competere però raga per lo meno io non voglio rischiare ecco diciamo che non voglio rischiare ho rovinato il pomeriggio alla giornata anzi a una brava persona però che tocca fa diciamo che potevo evitare la struttura perché bene o male avevo già capito cosa stava facendo questo qui quindi potevo evitarlo però ormai l'avevo visto stavo registrando e qui ho detto no qua può uscire del content quindi non voluto cioè volevo entrare per vedere cosa stesse facendo diciamo che potevo risparmiarmi la la bombettina però vabbè ma a parte il fatto che mi ha segnato passi quindi mi devo sbrigare a levarmi da qui però diciamo che non hanno aperto proprio tutte le chest qua eh diciamo che non sono state aperte tutte le chest però mi ha segnato dei passi quindi sta cosa mi puzzo un pochino ma raga ma che hanno fatto qua ma cosa sto vedendo ma quanto sono andato in alto ah qui c'è il bro col boss dei snoop e dog ok qui si stanno veramente ammazzando di botte in una maniera incredibile ah ha risciato male no bro dove sali dove vuoi salire tanto c'è il rampino se salva eh però nel dubbio e eh vado ad entrarmi il colpo della vita comunque mi sa che adesso verranno tipo tutti qua quindi io mi piazzo sopra la montagna a questo punto ho pochissimi colpi assalto comunque a saperlo manco mi sarei messo a sparare mi spiegate come è possibile che ho praticamente quasi gli stessi colpi del cecchino piuttosto che dell'assalto poi ci sono quelle partite dove i colpi cecco non si trovano si sono appena buildati qui ma ma ah no dai dai vai spaccaglie 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 no no vai bro rispaccaglie vai snoop e dog dai spaccaglie no ma ha visto il bro m'ha visto il bro m'ha visto ma caro snoop dog dai snoop sono state buono vabbè non mi tornerà più utile quindi glielo faccio fuori e basta ahia ora ora mi bomba snoop e dog ve lo dico io mi faccio bombare da snoop e dog e finiamo qui il video allora qui mi ricordavo di aver lasciato una cura bomba e non avevo lutato ma non lo so raga questo è cosa sta facendo comunque vabbè io nel dubbio vado a prendere posizione sopra quelle montagne ah mi pusci proprio adesso non ho capito ma non ho chiedito snoop e dog che mi ha pushato o il vero player ok questo che arriva è snoop e dog eh vabbè no ah ma c'ha la cosa c'ha vabbè non gli scapperò mai allora no ma come mi ha preso il muro regà ma quando come mi ha preso il muro ma non me ne sono neanche accorto ragazzi mi hai ditato la finestrella e me ne so accorto troppo tardi ormai non me ne sono accorto Rem ha preso il muro ma stavo lì a spammarlo eh vabbè che devi fa allora vediamo se però mi ha cambiato le scarpe sì quindi reload no build attenzione quindi rientro zero costruzioni via ragazzi spammino tattico lo sapete ogni tanto ve ne sto parlando ma dato che siamo in reload no build non posso che ricordarvi che insieme a Serena abbiamo raggiunto la real in reload ranked no build è già uscita la scalata tra elite e camp anzi sì tra elite e campione e forse proprio oggi in serata non lo so comunque nelle prossime ore nei prossimi giorni uscirà proprio la scalata da campione da real che abbiamo fatto insieme sul quarto canale però su gg specials dove sto caricando queste scalate in ranked ma anche altri tipi di video che magari qui sul canale principale di fortnite non caricherei vi lascio sempre il link in descrizione nel dubbio comunque vediamo un pochettino cosa possiamo fare non c'è più proprio non c'è più proprio non c'è più beh il tacconi subito come primo pump non lo rifiuto eh se le stanno dando qui ho rubato una kill proprio brutalmente non la spreco la impulsi per pushare il bro mi ha dato un assist ok la coroncina aveva il bro dai che me la vada più no ciao raga non mi ha sparato il pump ve lo giuro che non mi ha sparato il pump io ve lo giuro no no c'era anche il barilotto mannaggia la miseria mi poto fare direttamente quello senza sprecare nient'altro comunque si il ceccomo me lo prendo ceccomo me lo prendo raga io con gli assalti non c'è più con gli assalti queste stagioni costolute in reload io non c'è più l'unico decente con cui prendo un pochino è il martello ma non è una critica all'arma ragazzi c'è una critica a me cioè so io e non li so usare non ci riesco proprio sempre ho avuto problemi con gli assalti eh il bunkatile sarebbe fondamentale però forse preferisco tenermi un cecco e il movement anche se so solo tre no planano raga mi sa che hanno planato proprio qui sotto di me eccolo eh infatti ho già rotto lo shield cioè vedete magari mi entrano le prime due tre hit ma poi come continuo a sparare perdo totalmente il gancio diciamo così dall'avversario raga anche là se le stanno dando eh ce n'è uno lì è uno che gli sta sparando da verso il laghetto diciamo questo pure è vestito di natale eh ha giocato erbunca tilozzo ma questo pensavo fosse entrato raga vi giuro pensavo che sto colpo entrasse 100% cioè mi sarei scommesso qualsiasi cosa eh vorrei una mammut o una tickle raga quelle sì no raga mi ha visto mi sono andato a prendere un cespuglio e me ce l'ho voluto mettere ah ma sta lì è lui proprio ok andiamo se vuole ancora giocare ha chiuso la porta ma 105 di danno sinceramente non so quanto poi valga la pena pushare in no build raga eh perché se è full vuol dire che comunque c'ha 45 di shield quindi non me la so sentire di pushare perché se mentre pushavo lui ritirava fuori la testa e mettava era finita il problema è che appunto io sono bordo safe e mi tocca arrivare alla safe se no con la tempesta è un po' un macello non so se lui se n'è andato eh perché 2-3 volte ho distolto lo sguardo da lì non so neanche se si sia curato eh a dire il vero però certo non mi garba neanche passare per palmetto quindi forse ci toccherà passare abbastanza vicino a questo forse se non mi ha visto ruotare in questo modo potrei mettermi in questo cespugliotto sì sì non mi piace sta situazione perché anche se adesso dovessi passare qui c'è troppa acqua aspetterei un attimo qui perlomeno aspetterei che passi questa safe e poi ricominciamo a muoverci infatti a palmetto sparano e sparano anche lì davanti eh io c'ho ancora il dubbio che questo sia ancora qua oddio quasi quasi mi farei gli affari miei fino alla fine dei riavv che terminano regà prendermi 100 di sovrascudo in più non sarebbe male eh col fatto che non sono mai morto se me ne fossi accorto subito a questo gli avrei sparato vedo di la verità a questo gli avrei più che sparato dove andà ecco ma sta mezzo fermo sta tipo mezzo fermo regà stava mezzo fermo stava mezzo fermo eh regà se me ne fossi accorto prima era diverso però mo così ok tra l'altro mi sa essere lo son bombato perché ho sentito spari proprio verso dove stava andando lui e poi ha segnato una mo no non mi provate a cecchinare mi vado a mettere dentro questa casetta sperando sia free sì eppure mezza rotta mezza ho tutta rotta regà va bene eh mo se è tutto calmato regà perché tutti stanno a cercare di piasser sovrascudo eh c'è sta qualche sparetto adesso ma no 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 eh regà me so tra l'altro assist mi sa che è morto quello lì che aveva la tutina de natale no no me devo prendere ok ok me devo prendere l'extra e adesso si ricomincia un attimino a a ragionare siamo tanti eh siamo ancora nove quindi non siamo pochi non siamo veramente pochi per niente regà e io ho una bruttissima situazione a livello di safe perché perché devo andare verso la no dov'è ma da dove vieni fuori maledetto avevo sentito i passi regà eh vabbè eh ragà mo con la safe e macello ho perso subito tutto il sovrascudo quello extra che mi ero riuscito a guadagnare maledetto i danni che mi ha fatto eh c'erano gli scildini regà ma con quello che mi stava sparando da lontano non è che mi sia fidato troppo a riuscire a prenderli eh siamo messi malissimo raga eravamo messi da dio questo ci ha devastati proprio ah no quello è ancora vivo quello invece è ancora vivo e ancora gioca a bunkatili sì sì è il suo stesso standard è quello di prima regà io sto messo malissimo tutte ste montagne qua senza bunkatili senza niente eh mi tocca continuare a muovermi purtroppo eh sì facciamo una cosa no ciao bro me ne vado me ne vado me ne vado bro tranquillo anche perché se qua sopra c'è sto bel medikit no 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 c'è uno pure là sopra il problema è che questo qua sotto eccolo no ma perché ma che cacchio vi giuro io tutta sta cosa non la volevo fare vi giuro io tutta sta cosa non la volevo non ho capito su cosa ho rimbalzato non ci ho capito niente regà so solo che gli sono andato addosso il bro è morto per pura sfortuna eh allora mo questo il bunkatili me l'ha lasciato eh quanti sono sti bunkatili che c'aveva il bro quattro mi sa me l'ha porcecchino regà che in realtà è l'unica cosa con cui posso sparare da lontano ma ma sì per forza eh sì col martello non ci piglio ma me ne farò una ragione ah non vorrei sprecare neanche un bunkatili attualmente voglio semplicemente aspettare qui ok no regà ma il bro sta qui c'è il bro il no no agganciati no regà troppo danno ho preso ho preso ovviamente troppo danno no ma no l'albero godo era l'ultimo l'abbiamo pure bombato ho tirato una testata a un ramo ragazzi ecco le corna dell'arena in realtà sono i rametti che mi sono rimasti dell'albero non erano della skin non c'erano primi sono abbastanza sicuro che non c'era ma non avevo capito fossimo uno più uno madonna santa ma quanto danno mi aveva fatto quello vestito da natale regà mi ero tutto rifullato bam mi ha spaccato vabbè tutto è bene quello che finisce bene prima random skin delle scarpe finita con vittoria reale della corona pure mi sembra non lo so non ci ho fatto caso detto questo ragazzi mi raccomando consigliatemi altre challenge con le scarpe da fare vi ricordo il codice creatore GGYT tutto grande tutto attaccato nei cosoggetti di fortnite fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi video e poi perché ormai ci siamo evento finale nuova stagione non vi perdete i video di questa settimana e non vi perdete tutti i contenuti sulla prossima stagione in questo periodo natalizio ormai che stiamo entrando in dicembre vi ricordo i 5000 like per farmi andare a comprare un po' di scarpettine di questa collaborazione tra Nike e fortnite per me è tutto ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuali grazie a tutti